Libera è un film che nasce appunto da un mio romanzo che si chiama Libera come appunto il film e con il regista Giuseppe Di Giorgio è nata una bellissima amicizia ancora anni fa e grazie appunto a lui siamo riusciti a mettere in atto questo progetto che adesso sta diciamo regalando delle gioie un po' a tutti ovviamente lavorando ogni giorno con fatica cercando di incastrare quelle che sono appunto le esigenze del copione con quelle che devono essere poi le scelte registiche però sì stiamo riuscendo a lavorare in sintonia e questo diciamo che è un bel passo. L'essere responsabile, guardare avanti e capire soprattutto il perché. Devo dire che mi sono trovata molto bene perché abbiamo tante cose in comune io e Roberta e altre no quindi mi è piaciuto anche sperimentare nel mettermi nei panni di una persona che non mi assomiglia ma mi assomiglia e quindi mi sono trovata molto bene. E questo è il bello anche per l'attore interpretare dei personaggi che non sono simili a come sono loro nella vita nella vita reale e quindi mi è piaciuto molto e poi è molto divertente e di spessore profondo all'interno della storia. Allora molto bella, quinto keep rolling ok. Allora il personaggio di Ilaria è assolutamente un personaggio particolare soprattutto perché si inserisce in corso d'opera nel gruppo quindi con tutte le difficoltà ma anche i lati positivi della cosa. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena e la preparazione del personaggio ne ha dovuto tenere conto. Mi sto trovando molto bene con il gruppo, abbiamo legato moltissimo e questa cosa giova a vantaggio comunque del film. Sono emozionatissimo perché è il mio primo film quindi sono super gasato, non vedo l'ora che esca e sono contento sia del regista che di tutta la troupe, di tutti i ragazzi. Resterà sicuramente una bella impronta. Mi interpreto Samuel, è un ruolo che mi è piaciuto da subito perché mi ci rivedo molto e anche per me è il mio primo film quindi come per tutti gli altri miei colleghi spero sia un vero trampolino di lancio per far vedere appunto che amiamo questo mestiere e che un giorno appunto diventi la nostra professione. Anche per preparare i personaggi abbiamo fatto tante prove, tanti incontri, tantissimo lavoro e quindi speriamo che vi piaccia e che appreziate appunto quello che stiamo facendo. Sono anch'io molto emozionato, primo film appunto anche per me. Allora il mio personaggio mi rispecchia e non mi rispecchia. Insomma a livello caratteriale ci sono alcune cose in cui io mi identifico e invece in altre sono molto distante da me, non starò a dire nulla e sono molto contento in generale di come stanno andando le riprese e abbiamo formato un gruppo fantastico, io conoscevo già Fabio ed Emanuel prima del film però abbiamo legato ancora di più perché non avevamo mai approfondito comunque un rapporto diciamo così. Quindi sono molto contento per le amicizie che si sono create e anche per come siamo riusciti a interpretare le scene perché secondo me verrà fuori veramente un gran lavoro quindi sono soddisfatto di tutto. Il Serpenti Auro che è un'associazione di produzione cinematografica dove all'interno fanno parte diverse figure come Olga Merli che è la sceneggiatrice del Serpenti Auro non del film logicamente. C'è Traiano Ruffo Campanelli, c'è Stefano Tiburzi, Andrea Giancarli e Andrea Borgomaneri. Queste sono le sei persone che compongono il Serpenti Auro. Il Serpenti Auro ha l'obbligo e il piacere di fare cinema sul territorio soprattutto Marche e Abruzzo e abbiamo fatto questa coproduzione insieme a Giuseppe Di Giorgio per portare avanti questo progetto che è finalmente libero, questo film a lungometraggio. Sono onorata di essere qui all'interno di questa produzione cinematografica. Vorrei ringraziare tutta la cittadinanza di Martinsicuro per il supporto che ci ha dato, l'amministrazione comunale, il sindaco Massimo Vagnoni, i nostri partner, il campeggio Ducamedeo, il campeggio Riva Nuova, lo chalet UMA e tutte le persone che comunque hanno dimostrato di credere nei nostri progetti, in questo progetto e in quelli che faremo prossimamente e quindi di dare lustro anche al territorio perché è un territorio che ha delle splendide peculiarità e vogliamo portarlo sotto i riflettori nazionali e internazionali attraverso l'arte cinematografica. Carissimo, sono senza voce, sono più di 30 giorni che lavoriamo tra Pavia e qua, sono felicissimo che i ragazzi sono arrivati qui a portare una ventata di giovinezza, di arte, ci togliamo anche gli occhiali, togliamo la mascherina perché siamo tutti tamponati, io sono anche vaccinato, quindi è bellissimo ripartire dall'Abruzzo, da un ambiente accogliente, persone meravigliose, ringrazio il Serpente Aureo con la produzione di Giovanni Leanza, Olga Merli e tutto il cast sia tecnico che artistico che ne fa parte, ma l'ospitalità eccezionale del signor Amedeo, quindi il camping Duca Amedeo, la moglie, la figlia, il figlio e tutte le persone, anche il personale ausiliario di servizio, insomma tutti sono delle persone eccezionali, questo per dire anche con un filo di voce, andrebbe detta a sguarciagola, come si suol dire, che veramente l'Abruzzo è un territorio che merita molto e quindi sono felicissimo di essere arrivato qui con il cinema perché il cinema è comunicazione, comunicazione e accoglienza, accoglienza e comunicazione per dire che si può ripartire con tutte le precauzioni possibili ed immaginabili e spero veramente a fine agosto, primi di settembre di portare qui il film in anteprima in forma di ringraziamento per tutti coloro che ci hanno sostenuto e che ci hanno supportati e sopportati perché lavoriamo fino alle ore, alle prime ore del mattino, stiamo andando velocissimi per far sì che tutti noi possiamo raggiungere la meta, il cinema. Sì è andata bene, ero veramente preoccupato perché è stata una corsa contro il tempo per partire, per allestire i minimi, i servizi indispensabili perché la stagione è quella che è, ritardano su tutti, tutti i fornitori ritardano, tutte le consegne ritardano, comunque dai, fino adesso è andata bene. Grazie.